Ho detto che fermi il mio colpitero e avrei sparito. Antonio, invito un po' a guardare il candidato, a una foto. Carla, sei desiderata un po' con i candidati? Angela, eh, lo so. Stiamo viacchierando. E mi dai, vieni, andiamo. No, no, con i candidati, non dai. Michele, togliete di là, Michele. Che fai là? Eh, il presidente. Preoccupatlo. Non, 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 non. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. E da Potenza è tutto ragazzi, vi saluto, alla prossima. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Ciao. Grazie. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie.